Si è aperta alla Galleria Antiche Mura di Monfalcone la grande rassegna denominata Arte Open 2017, itinerari possibili con la presenza di grandi protagonisti italiani e dei paesi limitrofi che si svilupperà nei prossimi giorni anche alla Galleria di Piazza Cavour, a Villa Vicentini a Ronchi e nello spazio multimediale nel municipio di Stranzano. Si tratta di un grande evento artistico nato da Transmedia con l'associazione Ponti d'Europa che ha rilanciato la Galleria, incentrato sull'evoluzione di un percorso espositivo trentennale iniziato nel 1987, tra autori di provenienze geografiche diverse con mezzi espersivi differenti che danno vita ad un grande laboratorio diffuso sul territorio. Centinaia di artisti che in trent'anni hanno lasciato un segno, una traccia del loro passaggio, sempre attuale. Alle antiche mura sono esposte opere di grafica internazionale, della ricca collezione che nel tempo si è formata grazie alla generosità degli ospiti e delle esperienze artistiche organizzate da Franco Milani e Nicoletta Lighissa. Viene proposto un'interessante desoriente panoramica della grafica italiana, slovena, croata, austriaca, serba dagli anni 70 attraverso tecniche di stampa in rilievo con xilografia, in cavo, metallo inciso e calcografia, in piano, litografia, che evidenziano il diverso approccio ai vari processi operativi con risultati sorprendenti e di altissima qualità. Ne sono prova i neri astratti di grande impatto visivo di Mario Benedetti o il dittico in antitesi di Adriano Gon. Le radiografie realizzate a mezzo tinto del serbo Dusko Kierkanski accanto al toccante ciclo dei minatori dello sloveno Rudi Skocir. Le architetture e le forme in rapporto allo spazio del milanese Walter Valentini dialogano con l'astrattismo geometrico e fluido di Paolo Ghilardi. Il segno fitto, profondo e caratteristico di Giuseppe Zigaina si esplica in questa prova, mentre la xilografia monocromatica ruggida del goriziano Vladimir Klanicek è percorsa da sottili linee bianche. Si affidano al colore anche gli sloveni Martina Vensic, Frank Golob, Stan Ezerko e Zvesta Pollonio, maestri nell'arte litografica ed incisoria riconosciuti a livello internazionale, così come Pavel Medvecek dove la simmetria dei bordi delimita il segno positivo e negativo, mentre il croato Vlado Martek fa convergere forma e contenuti attraverso la grafica, il collage ed il colore. Un'esposizione dunque di alto livello organizzata dall'Associazione Transmedia con la collaborazione del Comune e di Ponti d'Europa.